Chi è risicuta l'esperienza consigliare e quindi sfiduce il sindaco Giovanni Palomba. Chi invece vota contrario ritiene che sia da respingersi la proposta di mozione presentata e quindi da proseguire l'azione amministrativa. Quindi favorevoli vogliono chiuderla differentemente chi invece la donna contraria vuole proseguire l'esigenza. Prego, signor Presidente. Palomba Giovanni? No. Contraria, giusto? Contraria. Mendella Yalanda? Contraria. Alverroa Cammini? Favorevole. Francaccio Pasquale? Contraria. Pietro Cucina? Contraria. Gentile Carmine? Contraria. Guadino Vittorio? Contraria. Giulio Rettano? Contraria. Accardo Ciro? Contraria. Figuro Luisa? Contraria. Angella Vittorio? Contraria. Giugno Samprattura? Contraria. Conforto Carmina? Contraria. Graviglia Simone Maria? Contraria. Marcosio Antonio? Contraria. Figillo Sciroma? Contraria. Mila Luizzi? Contraria. Pietro Antonio? Contraria. Afernavolo Alessandria? Contraria. Torriolo Samprattura? Favorevole. Favorevole. Favorevole? Stivo Romania? Contraria. Giamorino Carmela? Contraria. Giamorino Valerio? Favorevole. Corbi Sananello. Contraria. Questo è per chi fa quelle dichiarazioni con la chiesa. Un attimo soltanto che la non so. Andatevi a dimettere, andatevi a dimettere, Presidente, è la tua buona scelta. Grazie a dimettere, questo è rispondere anche a un'altra persona. Amarone ci ha accompagnato, non si vuole andare a casa. Grazie a tutti.